Ma tu lo sai qual è la differenza tra pratica e performance? Durante l'ultimo Brief Therapy Congress in California, a cui sono andato per parlare delle nuove logiche in terapia breve, Scott Miller ha detto due cose interessanti. La prima è che noi miglioriamo quasi esclusivamente facendo pratica. E la seconda è che quando stai facendo terapia, non stai facendo pratica, stai facendo una performance. Per capirci meglio, immagina una ballerina. Quando sta sul palco a esibirsi davanti alle persone, a fare il balletto, sta facendo una performance. Ma quando si trova nel suo studio ad allenarsi, a migliorare il suo plié, il suo hand de oro, a lavorare sulla coreografia, ecco lì sta facendo pratica. Ed è lì, anche secondo gli studi di Anders Erikson, studioso del come facciamo esperienza, come facciamo pratica, come miglioriamo, è lì che la ballerina sta effettivamente ponendo le basi per il suo miglioramento, per essere una ballerina migliore. Tra l'altro, se ci pensi, è scontato, no? Cioè, effettivamente migliora di più durante la pratica, mentre fa pratica, che durante l'esibizione, durante la performance. Io sono convinto che nella nostra attività anche la performance ci dia degli spunti miglioramento, però sono d'accordo con Scott Miller nella sostenere che nella nostra professione manca tutta una fase di allenamento pratico, di miglioramento della pratica. In pratica ci manca la pratica. E attenzione che non sto parlando dello studio, dei cinque anni di università, dei quattro anni di specializzazione, degli altri corsi che ti devi fare poi. Sto parlando proprio di una pratica simile a quella dei ballerini, dei calciatori, degli atleti, cioè delle ore, una parte di allenamento continuativo che tu fai tra una performance e l'altra, tra una seduta e l'altra. In altre parole, sto parlando di ore di allenamento in psicoterapia. E come fai a farle? Eh, qui. Qui i giochi si fanno difficili. Cioè, un concetto che sta spopolando, sta iniziando a spopolare in America, da qualche anno sta arrivando anche qui da noi in Italia, e che noi infatti stiamo integrando all'interno degli studi della nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico-strategiche. E è il concetto della pratica intenzionale, o pratica deliberata, deliberate practice. Si tratta appunto del dedicare, del tempo a praticare una serie di abilità e competenze necessarie per fare psicoterapia. Tony Rumanier ne parla nel suo libro Deliberate Practice for Psychotherapists e in tutta una serie di altri libri che, devo dire, danno degli spunti interessanti. Devo dire che, secondo me, molte cose vanno ancora migliorate, ma, d'altronde siamo ancora agli esordi, insomma, ci sono un po' di cose da capire, da fare meglio. Poi spesso la pratica deliberata, la pratica intenzionale, richiede proprio degli ambienti specifici, dei contesti specifici per essere fatta per bene. Alla fine, se ci pensi proprio come la ballerina, il calciatore, c'è tutto un ambiente di lavoro specifico in cui si allena. Non so, non penso che Roberto Bolle si alleni per strada mentre a prendersi un panino al McDonald's. Non penso che Roberto Bolle abbia mai mangiato al McDonald's. Però, 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 qualche spunto interessante lo possiamo dare, anche perché la nostra pratica è molto connessa all'interazione con le persone e questo ci può facilitare. Quindi un'idea di base, se ci pensi, se ci ragioni un pochino, è proprio quella di andare a allenare nella pratica di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, quelle che sono delle skill che sono utili e fondamentali anche all'interno del nostro studio, all'interno del lavoro che facciamo proprio con i pazienti. Per un esempio un po' connesso a questo discorso, ci sono molte persone che mi dicono che la mia cadenza romana non si sente quasi per nulla e mi chiedono come io abbia fatto a eliminarla. Ecco, io semplicemente durante gli anni di università, dopo aver letto bellissimo libro di semi, tecniche del corso, colloquio, decisi che avrei dovuto lavorare proprio sulla mia inflessione e iniziai ad allenarmi a cercare di togliere più romanità possibile dal mio modo di parlare. Che te devo dire poi? Cioè, alla fine se devo parlare romano ci parlo romano, ci vuole tanto a tornare indietro. Però, visto che nel parlare con le persone sarebbe stato utile avere un'inflessione più neutra, ho lavorato nella mia interazione con gli altri proprio su questo aspetto. Allo stesso modo, quello che devi fare è un pochino questo, no? Pensare a quali sono le skill, le abilità, le competenze che devi andare a allenare e che ti possono essere utili nella tua carriera professionale con i tuoi pazienti e metterti ad allenarle con degli obiettivi specifici all'interno della giornata quotidiana, con gli amici, con i colleghi, con i parenti, con il partner. non si tratta di fargli psicoterapia, ma si tratta di allenarti con loro su quelle specifiche competenze che poi ti torneranno utili anche all'interno della tua seduta. E nello specifico delle terapie brevi, come fare pratica intenzionale, che cosa andiamo ad allenare specificatamente? Se hai un po' di pazienza, nel video della prossima settimana ti darò qualche spunto pratico. Grazie a tutti.